4.000 dossi di vaccino antitifico e 1.000 teste per la tubercolina da utilizzare per i migranti richiedenti asilo sono state donate al Cara di Mineo, che ospita circa 3.000 persone. L'accordo è stato siglato nella sede dell'assessorato regionale alla salute, alla presenza dell'assessore Lucia Borsellino, dell'amministratore delegato dei Sanofi Pasteur Nicoletta Luppi e del presidente regionale di Croce Rossa Italia Rosario Valastro. Le procedure di impiego dei vaccini al Cara di Mineo riservate ai soggetti più a rischio saranno svolte in collaborazione con il servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Catania.